ciao e benvenuto in questo nuovo tutorial dove ti mostrerò come vedere lo stato di whatsapp in modalità anonima ma prima ti invito a iscriverti al canale per non perderti nuovi trucchi innanzitutto dobbiamo andare nel menu di whatsapp sui tre puntini successivamente andiamo su impostazioni dopodiché dovremmo fare tap su account e su privacy infine dobbiamo disattivare conferme di lettura dopodiché potrai vedere tutti gli stati che desideri vedere senza che il tuo nome venga visualizzato ma ricordati di riattivarlo semplicemente perché dopo non potrai più avere la conferma di lettura quindi le spunte blu e l'elenco di persone che hanno guardato il tuo stato attenzione se vuoi ringraziarmi per questo tutorial lo puoi fare cliccando su pulsante iscriviti a te non costa nulla ma per me è un grande gesto e mi incoraggerebbe a realizzare altri tutorial del genere ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti